Dice il rapimento è una certezza, è una garanzia Che questa è la garanzia data dalla parola di Dio stesso La parola di Dio stesso L'autorità della parola di Dio Tutti focalizzando sul profeta Vi ricordate dell'autorità della parola di Dio Dice che formiamo la terra E la terra fu formata e siamo qui oggi E dice facciamo il sole E ogni mattina c'è il sole E gli dice Che il Messia sarà nato attraverso un vergine Quanto non è logico Quanto non è razionale È stato adempiuto La parola di Dio dice Che il Messia verrà a morire per noi e risuscitare Se leggiamo Isaia 53 Che il Messia verrà a spuntare la luce del giorno La luce di vita Ed è vero Che venne a morire per noi e risuscitò Se leggiamo il libro di Salmo Se leggiamo il libro di Salmi Dice il Messia salirà in cielo Ed è vero la parola di Dio fu adempiuta il Messia ora è seduto alla mano destra del trono di potenza e la parola di Dio dice che il Messia ritornerà è vero, anche questo si deve adempiere